Artisti, imprenditori, professionisti, scienziati, nullatenenti e diseredati. Storie di uomini e donne protagonisti nel teatro della vita. Spazio scenico tutti i giorni dalle 14 alle 14 e 30 su Aracne TV. Puntata speciale di Spazio Scenico perché, come potete vedere, siamo ospiti in una ambientazione particolare che sarà la scenografia del nuovo programma di Aracne TV, Vivere e raccontare. Un programma dedicato ai libri ideato da Augusto Zucchi e Gioacchino Onorati. Il sipario di Aracne TV si apre sul protagonista di oggi. Diamo il benvenuto a Lorenzo Andreaggi. Una passione per lo spettacolo iniziata prestissimo. A 13 anni inizia a studiare recitazione cinematografica e dal 2000 al 2005 realizzerà più di 200 cortometraggi indipendenti. Dal 2006 al 2015 è stato il capo comico di vari teatri fiorentini. E nel 2009 si diplomerà come grafico pubblicitario. Nel 2010 ottiene la sua prima parte in un film importante. Amici miei come tutte e ben inizio di Neri Parenti, recitando a fianco di Aero Spagna. Mentre a 17 anni scriverai il tuo primo romanzo. I Trabocchetti del Bandino, edito da Polistampa, editrice, e che racconta la storia di un borgo a sud di Firenze. E grazie al quale sarai tra i finalisti del premio scrittore toscano dell'anno. Esatto. Nel 2012 un'altra tappa importante della tua carriera, del tuo percorso, perché inizierai le riprese del film. Inizio le riprese del film Anunnaki, ovvero coloro che dal cielo scesero sulla terra, tratto dalle tavolette sumere tradotte da Zaccaria Sicci. Nel 2015 ancora un altro film. Sì, esatto, I Peccatori del Paradiso, sempre tratto dall'omonimo romanzo I Trabocchetti del Bandino. Invece un'esperienza che va avanti, perché è stata ripresa anche da diverse televisioni locali, è quella del 2016, quando creerai lo spettacolo musicale Canta Firenze. Esatto, uno spettacolo itinerante dove canto e racconto, intrammezzata le canzoni, molte storie sulla Firenze medievale. Le canzoni sono di Odoardo Spadaro, Carlo Buti e Narciso Parigi. Ma non è l'unico progetto musicale di cui è protagonista Lorenzo Andreaggi. Perché infatti... Perché Narciso Parigi dopo questo progetto mi ha visto, mi ha contattato e mi ha proposto di ricantare i suoi più famosi pezzi cantati in America in Italia. Quindi uscirà un prodotto discografico entro la fine dell'anno, CLP che CD, dal titolo Italia, America e Ritorno. Dell'anno scorso, del 2017, ma uscirà nel 2018, invece, è un altro importante docufilm. Esatto, Quando l'Idei crearono l'uomo. È un docufilm che riprende un po' Anunnaki, intervallato da vari esperti del settore come Mauro Biglino, Roberto Pinotti, Biagio Russo e Enrico Baccarini, che racconteranno la storia, la nascita dell'uomo secondo la Bibbia, le scritture sumero-accadiche, e le scritture della Bibbia, quelle dell'ebraico-masoretico. Dopo la produzione del cortometraggio Educazione Cartesiana, comincerai le riprese del tuo nuovo lungometraggio. Fiabe italiane, tratto dalle fiabe italiane scritte da Italo Calvino. Ma chi è davvero? Lorenzo Andreaggi, sarà lui stesso a svelarsi al pubblico di Spazio Scenico. Benvenuto. Grazie, grazie a voi. Grafico, attore, regista, scrittore, comico, showman, cantante, produttore. Ma chi è davvero Lorenzo? Ma un pazzo, un pazzo, perché l'arte di per sé raccoglie solo esclusivamente pazzi, folli. E sì, fin da piccolo, come hai detto te, ho iniziato questa avventura nel mondo dello spettacolo, sia teatrale che cinematografico. Ma da piccino volevo fare cantante, poi mi sono gettato verso il mondo della recitazione e della regia. E da solo ho cominciato a sperimentare effetti speciali, montaggi a varie sessioni, riprese e cose varie. Beh, una passione è quella per la musica che però non hai abbandonato, perché il tuo spettacolo che si basa su grandi successi di cantautori toscani è stato ripreso più volte e adesso c'è questo nuovo progetto che uscirà. Esatto, mi ha rilanciato un po' come cantante, esatto. Cioè mi ha rilanciato, spero, mi rilanci. Senti, in questo nuovo CD ed LP che uscirà ci saranno 20 canzoni. Sono 20 canzoni inedite al mercato italiano, edite al mercato americano che Narciso Parigi ha cantato nella sua lunghissima e vasta carriera di 40 anni. Ricordo che Narciso Parigi è il cantante che ha scritto, tra l'altro, tra le tantissime altre cose che ha scritto e composto, la canzone che poi è la canzone ufficiale della Fiorentina Caci. La canzone di Viola. La canzone dei Viola. Sì. Prego. Narciso Parigi sono canzoni, come dicevo, inedite al mercato italiano e sono canzoni melodiche italiane, non fiorentine. Sono canzoni meravigliose e con questo progetto spera di rilanciare la canzone melodica in Italia e nel mondo. Come mai la passione musicale è andata ad incontrare il genere melodico? Ma perché è un, come posso dire, è una tipologia un po' persa oggigiorno. Oggigiorno va di moda il rap, va di moda, ma le nostre radici dell'italiano, insomma la canzone italiana, non la fa più nessuno. Lorenzo, Andreaggi un tradizionalista? No, 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 non è vero. Ti sei subito adombrato. No, 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 quello no. Diciamo che sono un nostalgio. Quello sì, un nostalgio. La nostalgia, splendido sentimento tra l'altro. Ma saputo controllare. Da grande però tu volevi fare il grafico pubblicitario. Oggi la specializzazione la fa da padrona. Esatto, è il grafico pubblicitario. E tu hai tante cose che fai, che ami fare. Non credi che questo sia un po' un ostacolo? Cioè ad un certo punto si deve decidere. Sì, esatto. Diciamo il grafico pubblicitario era la scuola che si avvicinava di più a questo mestiere che volevo intraprendere. Cioè quello che si avvicinava più all'arte. A Firenze, parlo sempre a Firenze. E anche lì, bene o male, la storia dell'arte fa da padrona. Perché non puoi fare il grafico pubblicitario se non conosci la storia dell'arte. E quindi è spettacolo anche quello. Per quanto riguarda i tuoi cortometraggi, i tuoi film, tu ne hai girati cortometraggi forse più di 200. Sì. Hai girato anche diversi film, oltre a prendere parte come attore. Uno di questi, quello che si basa sugli Annunaki, letteralmente coloro che sono scesi dal cielo, si rifà alle tavole dei Sumeri e prende spunto dai grandi successi di Zaccaria Sitchin. Di bestseller di Zaccaria Sitchin. Che ha ripreso le tavole dei Sumeri e le ha tradotte dando un'interpretazione scioccante per molti. Esatto, non è stato il prima di interpretarli in quella maniera. C'è stato Peter Colosimo, ce ne sono stati tantissimi. Non hanno avuto il successo però di Zaccaria Sitchin. Perché lui è riuscito a dare una lettura che oltre, secondo me la parte più interessante, è in realtà le analogie che lui trova tra religioni e miti che in epoche lontanissime non potevano comunque venire a contatto a quell'epoca. Esatto. Ma la cosa per cui rimane famoso è, volgarmente detta, la discesa sulla terra di questi Annunna, di questi dei. Degli extraterrestri, degli UFO diciamo. Esatto, dire UFO si apre un campo un po' particolare, perché la gente pensa subito ai dischi volanti, pensa subito... Però, che cosa accade? Che cosa fanno poi? Beh, queste Annunna scendono sulla terra, devono costruire delle maestranze per estrarre l'oro. I propri schiavi si ribellano e quindi i capi decidono di costruire l'uomo a propria immagine e somiglianza. Ecco, quindi quello che poi Sitchin lascia intravedere è l'anello mancante della evoluzione umana, quella che non è mai stato trovato. Esatto. Il passaggio focale che dall'ominide riesce ad arrivare all'homo sapiens... Perché ancora non è stato trovato. Lui lo rintraccia nelle parole dei Sumeri, che raccontano questa storia e, secondo la sua traduzione, che ricordo, va detto, è molto dibattuta, sarebbero veramente il frutto di un esperimento scientifico avvenuto in un laboratorio. Sì, esatto. Ma come mai questi interessi? Ma questi interessi, perché fin da piccolo mi sono sempre domandato da dove veniamo, chi siamo, e leggendo i libri, mi ricordo bene, all'elementare, i libri di storia, quando la maestra ci insegnava storia, si passava dall'età della pietra agli egiziani voltando semplicemente una pagina. Non c'era un collegamento vero e proprio. Queste civiltà nascevano dal nulla a un tratto. Questo anche perché la cultura molto spesso è stata ritenuta come un qualcosa di ordinato e separato a compartimenti stagni. Esatto. Come puoi vedere, anche questo studio è la dimostrazione che la cultura è disordinata perché poi alla fine arriva a lambire tutti i lati del sapere. Sì. Per quanto riguarda la creazione, è un argomento che ti ha molto interessato, perché poi è stata anche al centro di un altro tuo lavoro. Di un documentario, un docufilm per la precisione che uscirà in DVD per un uditori entro la fine dell'anno. Ci sarà Mauro Billino, Roberto Pinotti, Baccarini, Biagio Russo, tutti i più grandi del mestiere, insomma, del settore, che traducono sia la Bibbia, dall'ebraico masoretico come Billino, e sia il sumero accadico come Biagio Russo e Zaccaria Siccin. Eh sì, per un mare la Bibbia si rifà alle scritture sumere. Su quello che dice la Bibbia e quello che c'è scritto nelle scritture sumere. Tu sai che affrontare questi argomenti non è neanche troppo semplice, perché io credo, forse, non lo so, potrei sbagliare, ma forse tu sei stato il primo al mondo che ha messo al centro di un lavoro cinematografico questa storia. Perché si parla sempre di una trilogia che sarebbe stata censurata in America, di John Grass, ma non si hanno prove che sia poi realmente esistito questo lavoro. Mentre tu hai realizzato un film anche con dei mezzi, possiamo dire, non... No, non a livello di Hollywood. Non a livello di Hollywood, ma che ti è valso addirittura l'accostamento a Pasolini. Sì, esatto. Già col primo film, Tra Bocchetti del Bandino e Peccatori del Paradiso, mi avevano paragonato i rifici del settore, dall'Ella Artesi, Giuliana Gamba, registi di fama nazionale, sia a Pasolini che a Ermanno Olmi. È un piacere enorme. Chi è il tuo regista preferito, quello a cui ti ispiri? Questa è la classica domanda, ma... A Pasolini. A Pasolini, ovviamente. Mentre invece, quando tu eri un bambino, un ragazzo, chi è che ti ha aiutato? C'è una figura nella tua vita che ti ha aiutato a sviluppare questi tuoi talenti? Perché non è semplice che un bambino riesca ad avere in famiglia delle persone che gli permettano l'accostamento al teatro, alla musica, a così tante arti. Ma secondo me è stato un po' tutto, un po' il luogo dove sono nato. Un luogo storico fiorentino, un borgo medievale, una villa medievale circondata da cose vecchie, cose antiche, cose belle. Quindi quando sei circondato magari dalla bellezza, da cose particolari, hai degli spunti in più. Poi naturalmente c'è stato anche l'apporto della famiglia, che non è stato da poco. Ma invece Lorenzo Andreaggi come uomo, come ragazzo, perché per tua fortuna sei giovanissimo, com'è, che tipo di persona è? Cos'è la cosa che gli dà più piacere? Questa forse la intuisco. È quella che gli dà più fastidio. Ma la cosa che mi fa più piacere è andare a cercare sempre una verità nascosta nell'io. E quindi in questo senso rapportarmi con la telecamera. Perché quando dirigo un film, quando giro delle scene, è un qualcosa che vado a cercare di me stesso, che metto su pellicola. La cosa che mi dà più fastidio? Della verità ci sono poche cose che mi danno fastidio. E quelle che mi danno fastidio le lascio perdere. Per quanto riguarda invece il tuo rapporto con il futuro, come lo vedi? Spero positivo. Cerco sempre di guardare il futuro speranzoso, positivo, mai pensando negativamente. E in che settore lo vedi? Nel settore dell'arte, quella che comprende un po' il cinema e la musica. Non riesco a farti sbilanciare su cosa vorrei fare da grande. Il regista è in primis. Ti voglio accontentare. Il regista è in primis. Per quanto riguarda il futuro, quali sono i tuoi prossimi appuntamenti? Ma continuare a dirigere il film delle fiabe di Calvino. Ecco. Ho cominciato a dirigere a novembre, sul 200 fiabe abbiamo scelto 6 fiabe, tutte ambientate in regioni diverse, quindi tutte con dialetti diversi, quindi le altre regioni non capiranno nulla. E sono fiabe meravigliose, sono ancora più belle di quelle dei Grimm. Perché Calvino le ha raccolte dalle varie regioni d'Italia, le ha messe insieme, le ha assemblate e sono nostre, proprio della nostra indole di italiano. Sono bellissime. Perché sono più terra terra, sono più... posso dire, meno fantasy di quelle dei Grimm o di quelle di Basile. E più legate alla vita e ad episodi che possono capitare a tutti noi. L'unica cosa che ho fatto io è cambiare lo spazio, l'epoca del tempo. Cioè non sono ambientate nel Medioevere, ma sono ambientate al fine della Seconda Guerra Mondiale. 1945-46, quando la gente voleva evadere da questo stato di guerra, di morte, di povertà. E quindi dove evadeva? Nelle fiabe. Secondo te una lezione che hai tratto da Calvino, non specifica, ma un qualcosa che questo grandissimo artista ha dato o ha comunicato al di là di quello che ha scritto? Beh, anche lui è un po' come l'epopea di Gilgamesh, cioè la ricerca dell'io interiore, della personalità. Dante Alighieri è stato definito pellegrino, simbolo dell'umanità, che andava a cercare un qualcosa di impossibile, un io interiore. E così anche i protagonisti delle fiabe di Calvino evadevano per andare a cercare qualcosa di assurdo, di fantastico. Nemmeno loro sapevano cosa cercare, ma alla fine lo trovavano. Senti, come scrittore, visto che tu hai anche scritto un libro che ha avuto anche un ottimo successo e che continui a portare in diverse forme in giro, secondo te chi è stato il più grande scrittore italiano? Ce ne sono tanti. Un nome, fai un nome. Vabbè, Umberto Ello. Umberto Ello. Io credo che è stato un piacere intervistare Lorenzo Andreaggi, spero di vederti ancora qui a Spazio Scenico, magari a presentare un libro in questa splendida cornice. Anche per oggi è tutto. Spazio Scenico torna nuovamente, come sempre con nuove storie, su Aracne TV. Spazio Scenico torna nuovamente, su Aracne TV. Grazie a tutti.